Sì, più che altro per portare, come dicevamo anche prima, la tanta solidarietà che arriva da parte di tantissimi cittadini che incontriamo tutti i giorni nei confronti di Matteo Salvini. Noi siamo senatori della Lega, siamo sì con Salvini, ci mancherebbe altro, però vogliamo giustamente portare quelli che sono le tante persone, i saluti che tante persone ci fanno, mi raccomando Salvini vai avanti, non mollare, sei sulla via giusta, difendi i cittadini italiani, questo secondo noi è il modo migliore, rispettoso dalle istituzioni perché l'abbiamo fatto fuori dal Senato, non all'interno e in occasione dell'informativa che il Presidente del Consiglio Conte ha fatto proprio sulla questione della nave 18.